Allora noi abbiamo bisogno di cercare di fare questo passaggio di cultura personale, siete voi, non dovete più dare ascolto a nessuno, né a me, né a Casaleggio, né ai guru, io non sono un guru, sono l'elevato, vi pregherei di chiamarmi così da oggi in poi l'elevato, anche i giornalisti per cortesia, signor Grillo basta, elevato Grillo, basta, va bene?